Buonasera, dalla prima edizione di Natale Piccirillo organizzato dalla Prologo Sant'Andrea. Andiamo a vedere le nostre cuoche e i nostri cuochi cosa stanno preparando. Buonasera signora Speranza, cosa sta preparando? Sto preparando le cicole per mettere la pizza di Raurigno. Pizza di Raurigno, per chi non la conosce spieghiamo un pochettino. Non gli ingredienti, però un grosso modo. Come la prepara? Io sono addetta a tagliare le cicole e i pezzettini di pizza. E ci sono gli specialisti della pizza di Raurigno? Proprio lo specialista è il signor Domenico Di Pielo. Detto Mimmo. Però io sono pure quello che aiuta, un bel aiuto do alla pizza. Prego, la parola al signor Domenico. Signor Mimmo, ci dica tutto sulla pizza di Raurigno. Con quale farina la fa? La farina di Canturco. La farina rossa, quella gialla? Sì, quella gialla. Poi ci si mette dentro delle cicole, della sugna, del formaggio, un pizzico di pepe e un pizzico di sale. E viene fritta, vero? No, viene prima riscaldata con un'acqua bollente e poi viene messa nella ventola a friggere. Poi alla fine poi... Una tradizione molto antica quindi. Sì. Lei signora Carmela, cosa... Sono l'aiutante di mio marito. Specializzata anche lei nella pizza di Raurigno. Sì, la cuocere la pizza. Buon lavoro allora. Grazie. Signora Maria, lei cosa ci prepara questa sera per la festa di Natale Piccirillo? Preparo le linguine con le noci e l'acciuga. Le linguine prima si bolliscono, poi li condisco con l'olio novello, l'olio di produzione di sirignano, con l'acciuga e le noci utilizzate. E per spiegare un attimo la preparazione, in pratica l'olio lo fa soffriggere insieme a asciuga, noci... Noci e aglio e noci... E poi ci mette anche un po' d'acqua per fare un brodino, diciamo. Un uomo di sudetto dell'acqua dei cuocchi. E dopo che lei ha scolato gli spaghetti li fa saltare in questa padella, in pratica? Sì, in questa padella. E questa ricetta come mai si fa sirignano? Questa ricetta era della mia nonna, è da tanti anni che si fa sempre per Natale Piccirillo. Che sarebbe la Vigilia di Sant'Andrea. E poi 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 la Vigilia di Sant'Andrea. grazie a tutti 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 grazie a tutti